I 15 sindaci del distretto Tortora a Belvedere sono uniti con il presidente della giunta regionale Mario Oliverio, ormai pronto a indire una vera e propria crociata contro Scura. Questa la prima notizia che scaturisce dalla riunione tenutasi ieri mattina presso la sala consigliare di Praia Mare. Poi ci sono state le proposte. Revoca immediata del nuovo piano di riorganizzazione della rete ospedaliera, imminente ripristino del presidio di Praia Mare nel rispetto della sentenza e del giudizio di ottemperanza del Consiglio di Stato, rivisitazione di tutta la rete sanitaria del Tirreno Cosentino, convocazione di un consiglio regionale ad hoc sulla sanità nel quale si dichiari l'incompatibilità di Scura e Urbani. Nomina dei nuovi commissari ad acta con l'assenso del presidente della giunta Mario Oliverio. Il documento sarà consegnato da una delegazione di sindaci in settimana al sottosegretario di Stato e alla presidenza del Consiglio Luca Lotti, che sarà in visita in Calabria. E sarà poi inviato al presidente del Consiglio Matteo Renzi, al ministro della salute Beatrice Lorenzin, al tavolo interministeriale denominato a Duce, al presidente dell'aggiunta regionale Mario Oliverio. Se entro una settimana non ci saranno risposte, mercoledì 16 marzo, alle 10 del mattino, i sindaci si riuniranno di nuovo nella sala consigliare di Praia Mare per prendere le dovute decisioni. Quella più accreditata rimane la mobilitazione in massa. Occupare tutto ciò che si può, ha ribadito più di un sindaco. Infatti, oltre a non ripristinare l'ospedale di Praia Mare, il nuovo piano Scura, che per ora rimane una proposta, porta scompiglio anche nei presidi di Cetraro, Paola e nelle cliniche private convenzionate. Ma ciò che più scandalizza la politica calabrese è che Scura e Urbani, nel compilare questo atto, non abbiano tenuto assolutamente conto del Consiglio regionale, dei medici, dei sindacati e delle associazioni di categoria e che non si siano relazionati con i rappresentanti eletti democraticamente dal popolo.